che fresco niente adesso ci stiamo dirigendo al palacongressi fa fresco per fortuna il sole se n'è andato guardate quante belle arrivi questa strada facevamo? cosa? a piedi mi sento un bambino di 5 anni è troppo bello ciao siamo già arrivati palacongressi stiamo entrando speriamo di incontrare tanta bella gente adesso vediamo un po' c'è proprio il mio nome che bello tutto è bene qua c'è Seto Kaiba alle mie spalle fantastico niente qua ci stiamo girando c'è un casino di gente ed è davvero bello perché fanno vedere tutte le magie e vedi vari trucchi alcuni li spiegano bello anche io guarda guarda wow tutti i manuali di magia Ruben si sta cingendo a fare una manipolazione con il bastone un po' imbranato per essere la prima volta ma è da capire ecco ecco stiamo salendo le scale mobili niente qua è tutto dedicato alla magia alla giocoleria all'illusionismo ed è davvero bello è interessante per gli appassionati ovviamente tipo a me non è che me ne freghi molto però sono qua gratis quindi guardate guardate Raul Cremona seduto così che fa salotto sono 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 Ciao, sono appena accostato da Clown and Sun, è una nuova compagnia, Clown and Sun, e devo andare ora a fare una parola di teatime, dove rispondo delle domande che non avevo mai parlato. Non è facile. E mi ha detto che ho sentito. Pensate che questo signore è un mago famosissimo americano, no scusate, britannico, ed è simpaticissimo. No, è bello perché incontri persone famose, mentre cammini incontri, per esempio, a mango forest. Allora, stiamo fermi perché così sembra una foto, va bene? Ok, va bene. Allora, dai, fermi, e poi facciamo così. Non c'è il flash, eh? No, poi facciamo così, e sembra una foto, fermi. Allora, dai, fermi, e poi facciamo così. No, poi facciamo così. No, poi facciamo così. No, poi facciamo così, e poi facciamo così. nonché portavoce della truia, nonché mago a sua volta, Lanterronzo! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!